signore e signore vengano vengano ad assistere alla grande battaglia nell'arena della musica 10 lottatori e un solo vincitore affilate le note la top 10 sta per iniziare su cinefan 100.7 ne rimarrà uno solo al mio segnale scatenate l'inferno iniziamo subito con la top 10 in gramaro posizione numero 10 con la cura del tempo numero 9 per the colors con il singolo mal di gola posizione numero 8 per emma e alessandra amoroso pezzo di cuore il singolo la posizione numero 7 di vasco rossi con una canzone d'amore buttata via numero 6 per a luciano di gabù e con amici pulisco il cuore numero 5 per mamood con il brano in uscia posizione numero 4 per samuel ecco la pesce il singolo è cocorico saliamo sul podio e troviamo mace blanco e salmo con la canzone nostra numero 2 per takaji che tra marco mengoni venere e marte ed arriviamo alla prima posizione con madame il singolo è il mio amico è lei la numero uno amico starmi vicino anche quelle notti in cui io voglio morire ma non vuoi sentire tutto quello che dico